Invece che cosa ci dicono? Qual è il saldo tra aperture e chiusure? Solitamente i dati, i primi dell'anno, tiriamo una sorta di registro delle aperture e chiusure. Quindi quest'anno abbiamo un dato più, nonostante anche i fatti di cronaca raccontano che molte attività commerciali chiudono, ma molte aprono, quindi fa più notizia come una chiusura di un'attività commerciale rispetto a un'apertura. Abbiamo un più 348, questa mattina ho preso i dati ufficiali del Comune di Bari, aperture con 300 chiusure, soprattutto per l'esercizio di vicinato, che si intende il no food, quindi negozi di abbigliamento, di scarpe. Abbiamo anche un saldo positivo per le attività commerciali legate alla somministrazione. Gli hanno aperti 367 e chiuse 120. Si sa che il food ormai è un po' sorta del mood dell'indotto, barese, pugliese, ma diciamo italiani, il ristorante va sempre bene, c'è sempre grande apertura, sperimentazione di nuovi piatti, chef stellati che decidono anche di investire nella città di Bari, decidono di investire in Puglia, quindi sul cibo, ahimè, opportunatamente. Bari è un'isola felice, no? Andiamo abbastanza bene, sì. Anche i negozi di vicinato comunque, ripeto, abbiamo un più davanti, ma tante attività purtroppo chiudono, chiudono per un cambio generazionale non avvenuto, chiudono perché non sono spesso a passo con i tempi e anche la pandemia, il covid non ha aiutato. Ecco, quelle attività commerciali che erano lì sopravvivevano, con il covid hanno avuto insomma una chiusura definitiva. Ecco, un altro fenomeno a cui stiamo assistendo, lei parlava giustamente di food, prevalentemente lo vediamo nel segmento food, è che sicuramente i flussi turistici in città stanno accendendo un faro sulla nostra città che è molto più conosciuta adesso all'esterno dei nostri confini regionali. Ecco, quindi Bari diventa molto più attrattiva anche per dire per grandi marchi nazionali che decidono proprio di aprire qui delle sedi anche di food? Beh, sì, è una città diventata ormai città europea, questa è anche grazie agli investimenti fatti appunto dalle multinazionali che decidono di investire a Bari città, tutte le città europee, non voglio fare pubblicità, però ci sono dei marchi simbolo appunto anche globalizzazione lo dobbiamo dire e Bari è diventata una piazza sempre più pronta per accogliere questo tipo di attività grazie sia ai baresi ma anche il flusso turistico, ma anche il food locale va molto perché la nostra tradizione sul cibo è ancora alta, quindi molte attività, cioè molti turisti vogliono mangiare pugliese, quindi ultimamente quest'estate abbiamo visto tra l'altro che iniziano il pranzo alle 11, cosa che noi non siamo per niente abituati, ma anche la cena, cioè alle 17 stanno mangiando gli spaghetti, ecco cosa che noi assolutamente 17 prendiamo ancora il caffè del dopo pranzo, infatti.